Benvenuti di nuovo su Ciper TV, oggi è giovedì 22 novembre 2018, ho la stessa maglietta da tutta la settimana, ma... Ehi, chi vuole di oggi? Unrap 18 minuti, 3 kettlebell swing, 3 box jump over e 200 metri run, 6 kettlebell swing, 6 box jump over e 200 metri run, 9 kettlebell swing, 9 box jump over e 200 metri run. Pesi e scalature sulla grafica come al solito, seguiteci su Instagram e ci vediamo domani.